Cristian Caccetto, ci siamo lasciati nel 2016 a Taranto, una bella partita, una bella vittoria e poi quasi un ritiro, un periodo lunghissimo di sosta e adesso c'è grandissima voglia di tornare in campo. Beh sì, è una cosa nuova per la Lega Pro, questo riposo lungo. Infatti abbiamo dovuto riprendere con un piccolissimo ritiro per rimettere un po' di benzina nelle gambe che ci servirà per il proseguo di tutta la stagione, dalla parte finale insomma. C'è grande curiosità sia per la vostra partita ma anche per vedere all'opera le altre squadre che sono un po' cambiate, il mercato ha questi effetti che nella prima fase probabilmente non danno i benefici immediatamente. Beh sicuramente, le squadre che hanno preso giocatori nuovi hanno cambiato il volto alla squadra probabilmente passerà del tempo prima che si amalgamino bene questi giocatori con la squadra. È normale che il giro di ritorno del campionato di Lega Pro è sempre un campionato a sé perché i trasferimenti cambiano davvero il volto delle società. però noi dobbiamo pensare solo alla nostra squadra e cercare di far cambiare il volto in positivo a questa società sia che arrivino nuovi giocatori che noi invece. Quel cosenza ha abbracciato Dorazio, un terzino sinistro, un ragazzo che ha sposato subito la causa, si è visto dagli allenamenti. Beh sì, è normale. Nel momento in cui ha firmato è normale che ha sposato subito la causa, si è messo subito a disposizione del gruppo e della società. È un ottimo ragazzo e anche lui si è integrato benissimo col gruppo anche perché qui chiunque arrivi trova una famiglia. E niente, l'abbiamo fatto sentire subito il suo agio e spero già da sabato che ci possa dare una grossa mano. Ecco sabato, l'avversario, il matera capolista, non si poteva iniziare con una partita con maggiore significato? Beh, è meglio. Iniziamo subito col botto. Speriamo di mettere in pratica tutto quello che si è fatto in queste settimane di duro lavoro. È normale col cambio di allenatore, ci sono delle situazioni nuove, degli schemi tattici nuovi e quant'altro. Speriamo di poter fare una buona partita perché comunque l'avversario è davvero forte e quindi dobbiamo mettere molto più che quello messo nelle scorse partite. Anche in città si respira un'area diversa, c'è curiosità, c'è attesa, probabilmente anche sugli spalti del San Vito Marulla avremo una codice di pubblico più adeguata. Sicuramente ci sarà più gente perché comunque il popolo rosso-blu vorrà vedere all'opera questa squadra che ha avuto la possibilità di lavorare bene in questi giorni, in questa settimana e quindi sicuramente vorrà vedere la partita perché giustamente arriva un avversario forte, un avversario che è prima in classifica e sicuramente verrà qui a cercare di portare punti. Però troverà una squadra che si è allenata bene, che ha voglia di far bene col nuovo allenatore e cercherà di far sua la partita fin dai primi minuti.